Papa Francesco ha ricevuto il Consiglio Superiore della Magistratura, l'organo di autogoverno dei giudici, ed ha sottolineato l'aspetto etico che l'ufficio del magistrato incarna. La società italiana ha detto si aspetta molto dalla magistratura, specialmente nell'attuale contesto, caratterizzato tra l'altro da un inaridimento del patrimonio valoriale e dall'evoluzione degli assetti democratici. Sia vostro impegno non deludere le legittime attese della gente. Sforzatevi di essere sempre di più un esempio di integra moralità per l'intera società. Non mancano insegnamenti a modelli di grande valore, e Papa Francesco ha citato Vittorio Bachelet e Rosario Livatino, che hanno offerto una testimonianza esemplare dello stile proprio del fedele laico cristiano, leale alle istituzioni, aperto al dialogo, fermo e coraggioso nel difendere la giustizia e la dignità della persona umana.